Buongiorno, oggi è il 25 aprile ed è San Marco, San Marco evangelista. Dovete sapere che Marco è uno, a mio avviso, degli uomini più fortunati di tutta quanta la storia della Chiesa, perché ha avuto in sorte dal buon Dio la possibilità di essere segretario sia di Paolo che di Pietro. Ha accompagnato Paolo, come ci dicono gli atti, in alcuni dei suoi viaggi missionari e dall'altro lato, una volta che arriva a Roma, diventerà il segretario di Pietro. Pare che il suo Vangelo, secondo studiosi molto accreditati, non sia altro che il resoconto quasi stenografico dei racconti che Pietro fa alla comunità di Roma, della sua vicenda e della vicenda degli apostoli con Gesù. Quindi siamo davanti veramente ad un testimone della prima ora e a un grandissimo della storia della Chiesa. Il Vangelo di oggi è la parte finale del suo Vangelo. Questi cinque versetti da 15 a 20 del capitolo 16 pare che però non siano stati scritti direttamente da lui ma che siano stati aggiunti in seguito. Vengono considerati ispirati e vengono considerati dagli studiosi come una preziosa reliquia dell'antichità cristiana, dei primi tempi della vita della Chiesa. E cos'è che scrive Marco? Beh, intanto nel primo versetto lui immediatamente si focalizza su Gesù. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Punto. E alla fine c'è la missione. Certo, gli apostoli non sono mai trattati bene nel Vangelo di Marco. Le figuracce che fanno gli apostoli nel Vangelo di Marco sono un qualche cosa di terribile. Però, grazie a Dio, il Signore continua a dargli fiducia. Nonostante i limiti, nonostante i tradimenti, nonostante le defaianze, nonostante la fragilità di questi uomini, lui li prende e li manda. E questa è una cosa dove riempirci di consolazione, perché Dio non si sceglie i migliori, i più buoni, i più bravi. Si sceglie dei peccatori che perdona e che, forti di questo perdono, cercano di ricambiare con il loro amore, la loro vita, ciò che hanno ricevuto dal Padre. E Dio fa di più, perché Gesù affida agli apostoli la sua stessa missione, dicendogli mi fido di voi. Gesù ascende al cielo, ma lascia agli apostoli da fare le tre cose che fanno parte della presenza del Messia nel mondo. Predicare, guarire, liberare. Sono questi tre segni che vengono chiamati i segni del regno, che stanno ad indicare la presenza del Messia nel mondo e che Gesù ha fatto, che Gesù ha compiuto nel suo ministero e che adesso vengono affidati alla Chiesa, vengono affidati agli apostoli. Gesù ascende al cielo e la fiducia di Dio negli uomini continua a manifestarsi. E noi che siamo Chiesa, grazie anche a San Marco che ci ha tramandato il Vangelo, veniamo messi veramente nelle condizioni di partecipare allo stesso ministero di Gesù che gli è stato affidato dal Padre e siamo chiamati nella nostra quotidianità a predicare, a guarire, a liberare, soprattutto nei giorni in cui viviamo in questo mondo e in queste situazioni. Consapevoli che nella nostra fragilità possiamo stare sereni perché siamo perdonati da Dio e quindi rimessi in piedi e pronti a camminare, ma dall'altro lato chiamati a scommettere come San Marco la nostra migliore umanità nella sua sequela per il compimento pieno della sua volontà di amore e di salvezza.